è arrivata la roba è arrivata la roba raga ok comunque ciao a tutti io sono Giacomo oggi siamo qui perché ovviamente ci sono dell'unboxing rodina che caldo allora praticamente è andata che sono oggi ho fatto un po' di shopping in dei negozi del centro e e niente adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato di bello di gay cominciamo da prime cose ovvero che oh mio dio sono andato da OVS questo unboxing mi sembra gigantesco sono andato da OVS Kids e ho comprato un bel po' di roba che scontriamo insieme cominciamo siccome io sono un amante adesso dei jeans perché posso mettere le cinture le cose varie ho preso questa questi jeggings praticamente per chi non sa cosa sono i jeggings sono un misto fra tuta e jeans jeggings o robe così si dice più sugli abiti sui pantaloni per le femmine però veramente un bel colore poi dal video non rende però è più scuro più un beige e ragazzi si proprio un marone timbre diciamo più o meno e ragazzi siccome ci sono da OVS degli sconti per 10 euro ma io non mi prendo 100.000 questi pantaloni poi vabbè prima di tutto per fermare allora volevo prima di tutto fermare un po' polemiche perché potrebbe capitare che a qualcuno dice Giacomo fa si vanta fa lo spaccone che spende sempre mille soldi investiti e tutto allora prima di tutto vi voglio dire che io a me non interessa farvi vedere quanto spendo io vi voglio far vedere le cose lo dice anche il canale il mondo di Jack è il mio mondo sono le mie passioni tutte le cose che mi piacciono profumi vestiti bustine tutto per farvi capire proprio il il messaggio che voglio dare non è Giacomo spende mille euro in dei vestiti io voglio farvi vedere Giacomo condivide la felicità nel spendere comunque non nel spendere nel farvi vedere i vestiti i bei vestiti che compra quindi fermo un attimo finisco questi minuti di sfogo per fermare qualche polemica perché secondo me qualcuno già pensa che io voglio fare lo spaccone ma non è vero perché se c'è una persona che non è lo spaccone quello sono proprio io quindi ragazzi io condivido solo le mie passioni su questo canale quindi questi qua sono dei pantaloni che stavo dicendo che hanno i passanti quindi io posso tenere non i jeans o la tuta che è più comoda e comunque posso anche mettere le cinture i jeans li prendo soprattutto per le cinture e va bene quindi questi sono veramente molto belli e ringrazio tanto e faccio complimenti all'OVS Kids negozio del mio paese che vende sempre robe ben fornito vende sempre tante belle cose e va bene poi ho preso questa felpa di Manhattan veramente guardate che bella blu molto easy c'è easy però molto semplice però è veramente molto bella e va bene ok poi ho comprato questa qua che ho visto l'ultima volta da quando avevo fatto il video dei jeans e degli epic animals 4 elementi e ho visto questa sciarpa che mi piaceva salve signori no vabbè dai ed è molto bella è scozzese moderna oh oh quanto te va te va veramente tanto caldo beh io vado davanti a fare il video così è molto comoda qua c'è il prezzo oddio sono cadute le lucine ragazzi devo sistemarle ragazzi scusate abbiate un attimo di pazienza ok sistemate e vabbè andiamo avanti con l'ultima cosa che ho comprato ovvero un'altra felpa questa qua che la sua cosa bella che ha qua questo qua street zone parkour odora di vestiti va bene molto bella come mi sento un salame infragottato con questa sciarpina allora direi di dare un nome a questa sciarpina la chiamerò sciarpino un maschietto allora direi passiamo con le ultime due cose allora una mia grande amica che ha un negozio in mio paese che si chiama Manuela mi ha nel suo negozio di vestiti vendeva anche qualche profumo io ne ho presi due non vi dirò il prezzo perché è sempre la stessa cosa di prima lasciamo perdere io ringrazio tanto Manuela lo sponsorizzo anche negozio del mio paese così almeno andateci tutti no però non vi ho detto dove abito perché per forza volete anche il mio indirizzo non vi posso dire mica dove abito perché poi non voglio ritrovarmi tutti voi sotto casa mia perché sennò poi c'è il coprifuoco quindi non vi faccio spendere i soldi per la multa quindi lo faccio per il vostro bene ragazzi allora questi profumi qua sono della Iodema Paris e e ne ho presi allora uno che ha questo gusto nero e l'altro questo qui non so bene come si pronunci ma wow wow shant shant il mio inglese è molto arrugginito ragazzi wow shant grazie mamma prego allora perché sappiate che il mio inglese è un po' arrugginito non sono una cima direi di provarli allora proviamo prima praticamente che cos'è Iodema è una marca di profumi poi non so se qua sono i profumi che vende le copie di profumi di marca questo qui se non sbaglio sarebbe l'acqua di Giorgio Armani che è un profumo che costa un cioè costa veramente non so cosa cioè costa veramente tantissimo cioè per prenderlo ti devi vendere il motore della macchina praticamente però vabbè e io l'ho pagato pochissimo l'ho pagato una miseria però non vi dico il prezzo per la stessa cosa di prima per Praglia sì adesso voglio mettere sul sciarpino ogni volta che lo amuse mi ambevo sempre è veramente buonissimo ragazzi sa di fresco molto maschile le olie maschile non mi compro mica i profumi da donne è veramente un bel profumo profumato fresco lascia la scia è ottimo poi abbiamo il nero che è il mio preferito in assoluto io appena mi ricorda tanto la montagna tanti aromi spezie come cannella zenzero con queste cose qua veramente adesso che bontà ragazzi che bontà che bontà che bontà è fresco lascia la scia se dovete andare in montagna voi dovete mettere questo profumo ragazzi è veramente una bomba è ottimo questo profumo sono ottimi questi profumi e c'è nulla ragazzi e tra l'altro volevo dire un'altra cosa che non c'è con l'unboxing perché abbiamo finito i prodotti per fortuna allora vi volevo dire che siccome vedo che gli ultimi video non hanno fatto più tante visualizzazioni forse è perché non so se è lo sfondo che non vi piace oppure sono gli video di unboxing che vi hanno stufato porterò altri video forse inizierò anche a portare dei vlog non lo so però porterò anche dei video tipo sempre con i vestiti tipo 5 outfit da abbinare con questo profumo o video più fatti in casa video del genere così almeno magari per non farvi annoiare quindi io spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale perché ragazzi ai 50 ci stiamo arrivando mi mancano 9 o 8 ora non lo so però mancano sulla decina di iscritti se arriviamo ai 50 io farò uno speciale ve lo dico ma uno un bello speciale magari anche con dei coriandoli visto che siamo a carnevale tra poco e niente quindi da me e da tutti i prodotti che ho acquistato era tutto ci vediamo prossimamente con dei nuovi video non di unboxing ciao ciao ciao